La sindrome da ruminazione è un disturbo alimentare non altrimenti specificato, cioè rientra in quei disturbi alimentari per i quali la diagnosi non è ancora completa, cioè non ci sono dei criteri diagnostici specifici e diciamo per poter parlare di sindrome da ruminazione deve essa avvenire per più di 30 giorni. Quello che si verifica in questo tipo di sindrome non è altro che un rigurgito spontaneo dopo i pasti non provocato volontariamente il soggetto però cerca sempre nei contesti sociali in cui ciò accade di reinghiottire tutto quanto. La persona ovviamente non è di per sé intenzionata molto spesso a fare ciò, sembra che le cause di questa problematica non siano delle cause fisiche ma per lo più psicologiche, cioè a livello gastrointestinale non si riscontrano dei danni organici e delle alterazioni. Chiaramente le informazioni di questo video hanno uno scopo puramente divulgativo, per qualsiasi dubbio rivolgeti sempre dal medico specialista. L'ipotesi più accreditata per quanto riguarda la causa di questa sindrome, anche se non è ancora ben compresa, è che ci sia diciamo una risposta infantile del corpo nel tornare con la madre e quindi questo chiaramente induce il rigurgito infantile classico che si ha. Nella stragrande maggioranza dei casi la terapia consiste nelle modifiche del comportamento, quindi una terapia di supporto psicologico. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale, condividi questo video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!